Contatti, progetto, no, facciano due e soprattutto mettete queste vostre facce benedette. Io quando l'ho visto ho detto, ah sì, apri un nuovo ristorante. Questo primo passaggio, che è quello che fa sì che ne stampate il doppio, ne speccate il doppio della carta, ma avete metà del risultato. Però un po' come veramente, io lo so, discuto moltissimo sul concetto del marketing. Web, cioè i siti e di cui sono in parte animatrici, attivatrici e progettisti, ma anche le esperienze da cui questi siti e queste realtà online sono nate. La caratteristica che non contraddistingue è che cosa succede quando si mettono a sapere gli inglesi. L'hanno direttato proprio come canale di contoglio di tanti gruppi e donne singole e reti di donne che sono già attive su vari territori. Io devo dire, ho subito molto l'affascinazione della rete. Per cui io mi sono buttata nel mondo della rete e ho fatto di questo la mia professione. Credo che i computer dovrebbero essere usati fino alla fine della loro vita, perché usarli fino alla fine significa risparmiare la costruzione di tanti computer, che poi devono anche essere smaltiti. E poi compare una scritta che poi la voce fuori campo, come leggere questa scritta e dice ecco perché il 1984 non sarà il 1984, tra virgolette. E questo è uno spot dell'Apple, che è una delle poveri, insomma, produttrici di software che detengono il monopolio. Il 90% dei nostri documenti, i nostri personali, ma anche dei miei della società, della scienza, sono dentro una cassetta, di cui un proprietario singolo ha legato. Oggi si può farciare, sulla base di mostrare che gente l'ha fatta e quali sono le motivazioni per farlo.